salve care carissime e benvenute nel mio nuovo interattivo faremo questo interattivo vediamo il pensiero nascosto che ha una data persona che voi ovviamente avrete cura di pensare nella vostra mente che avrà questa data persona nei vostri riguardi quindi qual è il pensiero segreto che ha questa persona che state pensando nei vostri riguardi ora lo faremo con questi metà rocchi tarot fren sarà un video abbastanza veloce andiamo a vedere qui abbiamo tre di spade quindi qua c'è una situazione di chiusura quindi questa persona con questa persona sicuramente c'è stato una chiusura abbiamo anche un 5 di bastoni quindi c'è stata una chiusura a causa di conflitti qui abbiamo a che fare con un re di coppe quindi un re che può essere impegnato può anche avere una situazione stabile o comunque una persona che ha avuto famiglia probabilmente anche dei figli qua vediamo una voglia di superare degli ostacoli quindi vediamo qual è il segreto è di rendere giustizia di avere una giustizia quindi questo è più o meno quello che questa persona energeticamente diciamo apporta come informazione nei vostri riguardi adesso andiamo a vedere appunto il motivo cioè il motivo qual è il suo pensiero nascosto nei vostri riguardi quindi da queste prime cinque carte abbiamo avuto modo di capire che una persona del passato con cui avete chiuso ci sono stati dei litigi importanti dove si devono superare degli ostacoli una persona che potrebbe essere impegnata e quindi voi potevate essere l'altra o forse era impegnato con voi e quindi si è rotto un matrimonio una relazione stabile ovviamente sapete un interattivo quindi vedete come vi risuona meglio però adesso andiamo a vedere qual è la cosa che questa persona nasconde qual è il suo pensiero nascosto insomma cos'è che questa persona vi nasconde vediamo cosa vi nasconde qui abbiamo la carta degli amanti quindi questa persona vi nasconde di avere ancora un attrazione avere ancora anche una sorta di passione nei vostri riguardi abbiamo anche l'imperatore quindi una persona in questo momento vive una sua instabilità a tratti una persona che sicuramente sta soffrendo quindi quello che vi nasconde è il fatto che lui vorrebbe una nuova occasione con voi vorrebbe una nuova opportunità anche se rimane molto fermo a non dirvi ciò che vuole cioè nel senso scusatemi ragazze queste sono le mie solite i miei soliti inconvenienti e dicevo anche se lui come imperatore vedete è una persona che in questo momento nasconde infatti proprio la cosa nascosta che ha nei vostri riguardi è ancora sembrerebbe una passione un'attrazione un coinvolgimento e qui abbiamo la carta degli amanti abbiamo il matto e il nove di coppe perché vedete nonostante questa persona probabilmente ripeto deve aver creato in voi delle delle situazioni importanti dove siete stata proprio male abbiamo anche la comparsa dei dieci di spade però questa persona è questo mi nasconde mi nasconde ancora di avere un attrazione forte nei vostri riguardi adesso prendiamo queste mie carte azzurre e vediamo un po anche con queste carte di capire appunto di chiedere ancora qualche informazione riguardo a questa stesa vedete qua viene fuori che è un amore tossico che questa persona non vuole legami ecco perché vi nasconde però nonostante ciò si vi avvicinerà a voi ma non ha al momento il coraggio di dichiararsi quindi ragazze e ragazzi questo è quanto quindi questo è quello che viene fuori da questo interattivo ovviamente tenete conto che è un interattivo generale collettivo per cui insomma vi chiedete un consulto personale se ci sono dei riscontri altrimenti lasciate correre e andate magari a vedere qualche altro interattivo io vi ringrazio di essere stati qui con me vi do appuntamento agli altri miei interattivi un abbraccio di luce dalla vostra zaira ciao